Sono tutti negativi i tamponi effettuati ai dipendenti della RSA di Andria, gestita dalla cooperativa sociale L1SCS inati con la cooperativa Compass, la cosiddetta ex-struttura del San Raffaele. Nella RSA, riferisce una nuota, era stata ospitata una donna di 90 anni che a fine marzo aveva contratto il coronavirus e a seguito di ricovero ospedaliero, tornata negativa, era poi stata portata all'RSA di Andria il 16 luglio. Dopo 14 giorni di isolamento a scopo precauzionale, la donna è risultata nuovamente positiva e quindi trasferita nel reparto Covid dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Da qui, è detto ancora, la necessità di sottoporre tutti i lavoratori dell'RSA ai tamponi, risultati tutti negativi, è stata dunque scongiurata la presenza di altri contagi. A titolo precauzionale verranno però effettuati ulteriori tamponi a tutto il personale a sette giorni di distanza. Le procedure di controllo e le misure di prevenzione continueranno ad essere mantenute anche nei prossimi giorni, al fine di garantire la sicurezza di tutti. Le cooperative L1 e Compass che gestiscono la struttura, conclude la nota, ringraziano la direzione sanitaria, il coordinamento e tutti i lavoratori della struttura per la professionalità con cui stanno affrontando questo periodo e dichiarano continueremo a lavorare con il massimo impegno al fine di garantire l'assistenza, la sicurezza degli ospiti ma anche la qualità del tempo vissuto in struttura.